Eravamo abituati allo stadietto di periferia di Stockman, con qualche sfigato che ci applaudiva. Probabilmente erano comparse, non so, pagate. Per la prima volta entramme in uno stadio olimpico con 85.000 persone che applaudivano. E io mi ricordo che guardandomi con la nostra delegazione, che era lì pronta nel tunnel per uscire nel momento in cui uscimmo, io ero tra i primi della fila, guardandomi intorno io vedo tutta gente della mia squadra che piangeva. Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario in cui state ascoltando questo podcast oppure lo state vedendo. Benvenuti alla puntata zero, quella dopo il trailer di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel attraverso il quale raccontiamo le Paralimpiadi in un modo abbastanza diverso rispetto al solito. Andremo praticamente a scoprire le persone che fanno parte di questo mondo, atleti, ex atleti, istituzioni, e racconteremo le loro storie attraverso emozioni, sentimenti, aneddoti, curiosità, per, insomma, conoscere le persone, farci un po' amicizia, no? E scoprire un po' le loro relazioni con il mondo paralimpico. Io sono Angelo Andrea Vegliante e, come dice il mio cognome, veglierò puntata per puntata tutto questo podcast che, appunto, ci accompagnerà verso le Paralimpiadi di Parigi 2024, e ormai manca veramente poco all'inizio di questa spedizione francese. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, come dirò spesso durante questo podcast, iniziamo subito con un personaggio illustre che già qualche tempo fa ha avuto modo di passare con noi un'oretta, l'abbiamo veramente rapito la scorsa volta, e a quanto pare, insomma, è stato un rapimento, diciamo, consensuale, perché è tornato nuovamente a essere rapito da noi. Abbiamo con noi il numero uno del mondo paralimpico, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Ciao. Allora, buongiorno. Cioè, la devo prendere sul serio nonostante il taglio dei capelli? Sì, quello purtroppo non possiamo, per chi non sta ascoltando il podcast, ha un taglio di capelli praticamente rasato dietro alle fasce, invece ha, insomma, sopra ancora un po' di capelli, ne ho un marciapiede, praticamente, assomiglio. Allora, presidente, grazie intanto per aver partecipato a questa nostra idea. È sempre un piacere, lo sapete. Siamo molto contenti di averla con noi, e lei è contento? Assolutamente. Perfetto, alla fine di questo podcast non sarà così. Sicuro. Dirà che sarà molto più contento. Allora, noi solitamente iniziamo queste puntate con alcune domande di rito. La prima è, il nome Luca le è stato dato da sua madre o da suo padre? Non ne ho la più palle di idea. Non ne ho la più palle di idea. E, francamente, non è mai stato un motivo di grande interesse da parte mia. Me lo sono trovato, me lo sono tenuto. Invece il cognome Pancalli, sa se viene da una famiglia nobiliare? No, famiglia nobiliare sicuramente no. Però posso, con un pizzico di orgoglio, vantare una origine romana, 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 di quelle che si definiscono di sette generazioni. Perché ancora oggi, se voi andate su Piazza del Campidoglio, guardando il Campidoglio a sinistra, c'è un elenco di persone cadute per la libertà di Roma, c'è un Angelo Pancalli, che è un mio avo, e a Villa Panfili c'è una via Angelo Pancalli, che evidentemente è un mio avo. Eh, questa cosa, per esempio, non la sapevo. Nemmeno io, me la racconto mio padre quando ero un po' più giovane. A proposito di legami familiari, noi non avendo sempre un pubblico dal vivo, a noi piacerebbe, per esempio, andare nei teatri, con il pubblico, per avere un'interazione diretta con magari le persone che sono molto interessate a questo mondo, per ottemperare a questa situazione qui, noi di solito scriviamo su internet il nome del nostro ospite, e per vedere le domande che magari le persone cercano legate a quella persona. Le persone, in relazione al suo nome, hanno cercato Luca Pancalli, moglie. Sono interessati molto le persone a... No, probabilmente perché io sono una persona molto riservata. Mia moglie, credo che sia conosciuta a molte e poche persone, perché tendo a distinguere il mondo dell'impegno lavorativo, dell'impegno professionale, poi dalla famiglia, tendo sempre a preservare molto la mia famiglia da quello che ho sempre fatto, il che non vuol dire escluderla. Non scaricarle, non soltanto indirettamente, come già avviene, tutte le mie, come dire, responsabilità, i miei nervosismi legati, che sono naturali, insomma, per chi poi porta delle responsabilità sulle spalle, non scaricarle pure quello che avviene nella quotidianità. Pensate, mia moglie, ma così come i miei figli, non sono mai venuti a una Paralimpiade. Ma perché ritengo corretto tenere completamente separato, anche perché io ho una mia rigidità mentale in termini di trasparenza rispetto alla gestione di questo piccolo pezzo della cosa pubblica e credo che sia giusto e corretto così. È molto difficile poi in questi tempi, comunque col fatto che ognuno di noi è anche iscritto a un social media e anche lei che comunque ha un ruolo istituzionale importantissimo in Italia, è molto difficile fare questa operazione. Ma è difficile nella misura in cui io non volevo essere iscritto e non volevo avere social, mi hanno obbligato i miei della comunicazione perché ritenevano corretto e giusto, ma io lo utilizzo molto, molto, molto poco per fatti privati. Anche perché, guardate, il privato io credo che se uno non lo salva, guarda, rischia di diventare una prosecuzione dell'impegno e del lavoro. E siccome a me questo lavoro è impegno, che non è un lavoro, è una passione, però ha tolto tanto della mia vita privata, perché oggi alla soglia dei 60 a volte mi ritrovo amaramente a fare la constatazione che io non mi ricordo i miei figli da piccoli, perché stavo sempre in giro, preso dalla necessità di costruire questo movimento. E oggi ne ho il rammarico, mi ritrovo due figli grandi, una di 27 e l'altra di 24 e non me li ricordo bambini, perché probabilmente è una cosa che succede a tanti, però il mio privato ho sempre voluto che fosse il luogo dove non parlavo di lavoro. E siccome questo è un mondo che appassiona, ritrovarmi dentro casa, magari anche una moglie che si sarebbe, perché è appassionata, perché poi naturalmente lo vive indirettamente, come oggi diciamo mio figlio, mia figlia, sarebbe stato molto pesante per me, invece quando io sto nel privato devo avere amici che non appartengono a questo mondo, che siano completamente di... insomma è un mio limite. Ma in realtà è anche una cosa secondo me idonea, perché poi viviamo in tempi dove tutto è osmotico, quindi si rischia molto di, come dire, mischiare troppi ambiti e non riuscire anche proprio a staccare mentalmente in una situazione. Questo secondo me anche nello sport è importante. Assolutamente. Infatti, oltre alla sua carriera da dirigente, noi vogliamo un po' partire dalla sua carriera da sportivo. Parti da dove vuoi. Perché in realtà il presidente Paccalli, per chi non lo sapesse, ha partecipato a tantissime paralimpiadi. Sì, quattro. Quattro paralimpiadi, 84, 88 Seul, 92 Barcellona e 96 Atlanta, dove poi decisi di appendere il costumo al chiodo. Nuoto paralimpico. Nuoto paralimpico, sì, sempre nuoto paralimpico. Sebbene appena avuto l'incidente, negli anni ci troviamo in un'altra Italia sotto tutti i profili, provai anche altre discipline, perché venendo dal pentatolo moderno come atleta del mondo olimpico, naturalmente avevo la possibilità di provarne degli altri, almeno cinque, no, quattro, perché l'equidazione sicuramente non sarebbe stata assolutamente opportuna e avevo provato la scherma, eccetera, poi mi sono, come dire, stabilizzato sul nuoto e è lì che ho proseguito. Ecco, lei essendo il primo ospite e anche la prima persona in realtà che ci può raccontare è una cosa, secondo me, molto importante. La differenza delle paralimpiadi precedenti a Londra 2012 e quelle dopo Londra 2012. Ma guardate, allora qui secondo me si fa un errore metodologico e anche di approccio, dal punto di vista concettuale, che secondo me si sta un po' trascinando, perché è vero ricordare Londra come una sorta di spartiacque, no, perché naturalmente Londra oggettivamente è stata una straordinaria paralimpiade organizzata in maniera straordinaria, c'è tutto l'orgoglio britannico di rivendicare il tornare a casa del mondo paralimpico, perché come voi sapete si narra oramai nei libri di storia che il mondo sportivo praticato da persone disabili nasce in quel di Stockman de Villadopera di Sir Ludwig Gutmann. Poi a Roma abbiamo la storia nostra, tutta italiana, del professor Maglio. Per cui loro affrontarono questa sfida delle Olimpiadi, ma soprattutto delle paralimpiadi, con la volontà di dimostrare la loro potenza da questo punto di vista, quindi sotto il profilo culturale, comunicazionale e quant'altro. Però in realtà non ci può essere qualcosa che nel nostro mondo identifichi un prima e un dopo. È tutto un cammino strettamente collegato, dove ogni evento, ogni anno, ogni paralimpiade precedente è stata quella sulla quale si è costruita quella successiva. Probabilmente Londra 2012, perché viene vista come spartiacqua? Lo è stato probabilmente per noi, perché dalle Olimpiadi di Pechino 2008, col fuso orario, con una RAI che non era presente, o comunque erano presenti in tutt'altro modo, per la prima volta, senza il fuso orario, nel nostro continente, con una RAI presente, che uscì fuori come il secondo network televisivo al mondo per ore di diretta mandato, naturalmente ha avuto un'esplosione in termini di conoscenza. Mediaticamente, insomma. Mediaticamente. E quello sicuramente è stato, quello sì, uno spartiacque, perché naturalmente ci ha consentito di entrare in relazione con un numero di persone, tutte le famiglie italiane che poi si sono appassionate, ci hanno conosciuto, e poi magari hanno continuato a seguirci, che non avremmo avuto con Pechino. E invece per lei, per il Pancalli Atleta, vivere quelle Paralimpiadi, ha qualche ricordo? C'è una Paralimpiade alla quale lei è affezionata in maniera particolare? Da atleta o post-atleta? Atleta. Ma da atleta, guardate, io con un pizzico di romanticismo penso alle mie prime Paralimpiadi, perché avevo vent'anni, avevo avuto l'incidente da appena tre anni, e, diciamo, non erano le Paralimpiade di oggi. Peraltro a Stockman-Deville, perché gli statunitensi Los Angeles rinunciarono all'ultimo momento, per cui l'organismo internazionale dell'Euro in fretta e in furia cercò una soluzione e la si trovò in Stockman-Deville, ma nella loro piccolezza, tra virgolette, nella disattenzione generale generica di tutto il mondo, della comunicazione, anche nella rappresentazione, sono state belle, perché erano delle Paralimpiadi dove l'umanità che in qualche modo coinvolgeva tutti noi atleti presenti era palpabile, la potevi respirare, eravamo ancora nell'epoca in cui ci si poteva definire e come siamo poi stati definiti i pionieri, perché era veramente il momento nel quale si cominciava a costruire. Da lì all'88, io ricordo l'88, perché per la prima volta, Seul, comitato organizzatore, lo stesso delle Olimpiadi, per volere di Samaransh, si disputarono nello stesso luogo delle Olimpiadi e lì fu la Paralimpiade che io conservo perché per la prima volta, entrando nello stadio olimpico, eravamo abituati allo stadietto di periferia di Stockman, con qualche sfigato che ci applaudiva, probabilmente erano comparse, non so, pagate, per la prima volta entramme in uno stadio olimpico con 85.000 persone che applaudivano. E io mi ricordo che guardandomi con la nostra delegazione, che era lì pronta nel tunnel per uscire, nel momento in cui uscimmo, io ero tra i primi della fila, guardandomi intorno io vedo tutta gente della mia squadra che piangeva, perché per noi era la prima volta nella quale ci veniva attributato quel riconoscimento in termini di dignità sportiva che non avevamo mai avuto. È stato un ricordo che mi ha fatto sentire di nuovo atleta come mi sentivo prima dell'incidente. E quella è stata, secondo me, la vera Paralimpiade della svolta. Io colloco sempre Seul la prima Paralimpiade dell'era moderna, della nostra era moderna. In quel momento magari ha vissuto anche la sensazione di dire qui si sta costruendo qualcosa? Assolutamente, la sensazione, la percezione reale, perché oggettivamente per arrivare a costruire in quegli anni quel genere di Paralimpiade significava che evidentemente un percorso era nato molto tempo prima e nel quale Stockman era stata soltanto, come dire, un elemento di passaggio indispensabile, naturale, normale, ma appuntando a qualcosa di più importante. E Seul io ebbi la consapevolezza, mi ricordo, tornando al privato, che fu la cosa che dissi ai miei genitori tornando da Seul, perché mi ricordo dissi a mio padre forse, papà, questa volta forse stiamo diventando veramente degli atleti, perché era tutto molto professionale, tutto l'approccio era in totale rispetto della dignità degli atleti. Parliamo di Seul. Parliamo di Seul. Lei comunque, quattro edizioni, Palmares è molto ricco, diversi ori, c'è una medaglia in particolare che, questa è una domanda, è come se chiedessi, preferisce mamma o papà, c'è una medaglia alla quale lei ha un legame profondo, ricorda con affetto? Ma allora, giustamente lo hai premesso, è difficile dirlo, perché poi tutte le medaglie sono figlie di tanti sacrifici, tante ore di allenamento, poi all'epoca non eravamo sostenuti come fortunatamente siamo riusciti ad arrivare a sostenere i nostri atleti oggi, veramente, cioè, volgarmente parlando, ci facciamo un mazzo... Un mazzo tanto. Un mazzo tanto, ma non tanto atleticamente, ma per sopportare tutto quello che dovevamo sopportare, perché non c'era nei nostri confronti quel riconoscimento del rispetto che secondo me era dovuto. Però, al di là del non saperle identificare, forse quella che per me ha maggiormente significato è l'ultima di Atlanta, quella che, diciamo, ho avuto la percezione, perché la decisione era maturata, che sarebbe stata la mia ultima medaglia come atleta paralimpico, perché era la medaglia della consapevolezza e della maturità, nel senso la consapevolezza nel saper dire basta nel momento in cui tendenzialmente non lo faresti, perché la passione è la stessa, la forza che ti senti è la stessa, avevo 32 anni, avrei potuto probabilmente continuare per un altro quadriennio, però salendo su quel podio dell'ultima medaglia, medaglia d'oro fu, e guardandomi ai due lati e vedere due ragazzi di 18 e 20 anni, io ne avevo 32, fu, ecco, la medaglia della consapevolezza, c'è anche un momento, diceva Edoardo, che un attore si vede non da come entra in scena, ma da come esce dalla scena, il bravo attore deve sapere uscire dalla scena nel momento giusto e nel modo più giusto, e poi perché c'era mia moglie incinta che aspettava la mia prima figlia, per cui la consapevolezza e la maturità di tornare e sapere di avere altre responsabilità. Però non deve essere stato semplice prendere questa decisione, soprattutto se poi uno si sente ancora magari anche fisicamente e mentalmente... No, è stato semplice perché io nell'atleta sono sempre stato molto psicopatico, nel senso che per me ogni risultato era... non me lo sono mai goduto perché dopo dieci secondi stavo pensando a quello che avrei dovuto fare dopo. In questo caso quel dopo non coincideva con un risultato sportivo ma con un risultato politico. Io volevo cambiare il nostro mondo e il nostro movimento perché da troppo tempo guardavo il nostro mondo dall'interno, da troppo tempo annotavo tante cose che dovevano necessariamente essere cambiate e non venivano cambiate, per cui già avevo in proiezione un altro impegno da coltivare. E da lì poi appunto via i panni dell'atleta vestiamo i panni prima del dirigente, piano piano poi fino ad arrivare presidente. La domanda... beh non male, lei ha già risposta in realtà a una domanda che avevo in mente sul perché appunto ha deciso di intraprendere questa via. La cosa che mi viene da chiederle è, Pancalli atleta, Pancalli presidente, com'è cambiato lei? Io sono cambiato, diciamo, nella consapevolezza che da atleti si vince per se stessi, la dirigente si vince per tutti gli altri. Il bello del fare il dirigente sportivo è che quello che tu fai non coincide con una singola vittoria, la tua, ma coincide con tante vittorie e tante non vittorie che non vedete e non vengono raccontate, che sono quelle del portare un bambino a sorridere in un campus di avviamento allo sport, dare la speranza a una famiglia con un bambino con una disabilità che non è... che la vita può prevedere per il proprio figlio anche il diritto allo sport, portare lo sport nella scuola, mettere nelle condizioni i nostri atleti di fare cose che noi sognavamo e che oggi invece sono diventate un fatto normale. Ecco, io credo che tutto questo rappresenta, lo dico fuori da ogni retorica, la più grande soddisfazione, perché tu vinci per un pezzo di mondo per il quale ti sei messo a servizio, ma dopo di te continuerà, dopo di te come atleta non continua, perché la tua storia all'atleta finisce, può rimanere nell'albo d'oro, può rimanere su una targa, una mattonella come nella Walk of Fame c'è la mia mattonella per terra, poi peraltro calpestata, però voglio dire, no? In effetti pure su quello si bisogna... No, 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 quella è una cosa bella che è stata fatta dal CONI, però rimane là, mentre qui il vincere significa che in qualche modo prosegue qualcosa che è indipendentemente da te e utilizzo una frase, anche a dimostrazione che a volte nella vita mi chiedevi le origini della mia famiglia, si può realizzare qualcosa pur partendo dal nulla. Io sono una persona normalissima, figlio di un impiegato e di una casalinga, cioè per la verità insegnante, ma sostanzialmente si dedicava alla famiglia, di una periferia romana che ha avuto la fortuna di avere una grande, grandissima famiglia alle spalle che nonostante i sacrifici ha consentito a me e ai miei fratelli, mio fratello e mia sorella di studiare, di laurearci, quindi ci ha dato un'opportunità. E arrivare a tentare di mettersi a servizio di qualcosa e costruire qualcosa forse di insignificante per i più, secondo me no, perché stiamo trasformando un paese, significa dare la speranza a tanti ragazzi che hanno voglia di inseguire con passione, con determinazione, con sacrifici tanti, i propri sogni si possono realizzare. Il mio è stato un sogno, se volete, molto piccolo, molto grande, non lo so, hai posto di larga sentenza. Però ho realizzato un sogno, ho realizzato un obiettivo, poi dopodiché certo mi piacerebbe che questo venisse in qualche modo riconosciuto, ma alla fine i riconoscimenti, quando uno comincia a invecchiare e non a tagliarsi i capelli come te, ma a averli bianchi, naturalmente l'apprezzamento di una mamma, di un papà valgono più di qualsiasi altra cosa. Io se continuo così neanche bianchi li avrò, i capelli, quindi. Tra questo insieme di cose, secondo me c'è un minimo comune denominatore, cioè il fatto che insomma in Italia siamo riusciti a dare la possibilità ad alcuni atleti paralimpici di potersi stipendiare attraverso appunto l'attività sportiva, cosa che in realtà anni e anni fa non... Guarda, è una di quelle cose che nasce dalle frustrazioni, perché io quando ebbi l'incidente, un mese dopo sarei entrato nel gruppo sportivo dei Carabinieri. Da quando cominciai a fare l'atleta paralimpico, una delle cose che mi rammaricava più, la vivevo come una mortificazione, perché io vedevo la differenza di approccio fra il mondo di prima, da atleta, il mondo che era molto, a volte eccessivamente solidale, pietistico nell'approccio ai nostri confronti. Per cui tutto ciò nel quale io intravedevo delle differenze, le leggevo come discriminazioni. Per cui io lottavo, ma anche da atleta su queste cose, ma naturalmente un'altra Italia, altri tempi, altre situazioni. Quando sono diventato presidente era una delle cose che mi ero ripromesso di fare. Ci si è messo tanto tempo, ho consumato tanti copertoni della mia carrozzina, mi sono preso tanti puffetti sulla guancia e tante pacche sulle spalle. Porta in faccia, ma come per dire ma che cacchio stai dicendo, guarda stai fuori dal mondo. Eppure come una goccia cinese ci siamo riusciti. Guardate che non è un risultato nell'interesse di quegli atleti. Io invito a leggere questo risultato in maniera un po' più ampia, perché è vero che noi abbiamo dato una risposta in termini di dignità ai nostri atleti che oggi possono essere al pari dei loro colleghi olimpici. Ma questa è la cosa più evidente nell'apparenza. Andate oltre. Significa aver dimostrato attraverso lo sport e attraverso il saper guardare alle loro abilità e non alle loro disabilità, aver dimostrato che un pezzo dello Stato, quello più difficile che avrebbe mai potuto aprire le porte a persone disabili, ovvero sia agenti di polizia di Stato, agenti di polizia penitenziaria, Fiamma Azzurra, Fiamme Gialle, Guardia di Finanza, Gruppo Paralimpia Difesa, quindi tutti i corpi militari, li hanno visti come risorse, per carità attraverso lo sport, ma come risorse. Quindi il segnale al Paese, se lo ha fatto e riuscito a fare nel mondo dello sport, perché tante aziende italiane, nonostante le aliquote d'obbligo che stabilisce le leggi dello Stato, non assumono persone disabili. Perché la persona disabili ancora oggi viene vista come un peso dal mondo datoriale e non una risorsa se messa nelle condizioni di esprimere le proprie abilità? E perché non dare loro la possibilità di affrancarsi da uno Stato assistenzialista? Guardate, a me piace fare politica, in questo caso io faccio politica sportiva, ma quello che abbiamo fatto ha una risposta e rappresenta una risposta per il mondo sportivo, ma vuole essere, come dire, vuole rappresentare una contaminazione per il resto della società civile. Non so se è un po' complicato. No, io credo di aver capito, nel senso, noi vediamo sempre alla punta dell'iceberg che giustamente tutto questo è a favore del mondo paralimpico, però di riflesso la società civile ha la possibilità di conoscere molto più da vicino le virtù che qualsiasi persona può dare indipendentemente. E ti ricordo, e ricordo a me stesso, non a te naturalmente, che la vera mission del mondo paralimpico è quella di contaminare la società civile, cioè riuscire ad aiutare la società civile ad avere una percezione della disabilità completamente diversa. Fermo restando, attenzione, che io sono assolutamente consapevole, da persone disabili, ma da persone che si è sempre occupate di disabilità a 360 gradi, che ci saranno tanti ragazzi che non potranno mai avvicinarsi allo sport, perché per loro disabilità, magari molto grave, ancorché oggi abbiamo delle discipline sportive che possono essere praticate da persone con disabilità molto grave, ma ci sono pure quelli che non potranno mai praticare sport. Ma non per questo lo sport non deve essere declinatore in termini di attenzione, in termini di responsabilità sociale, nei loro confronti. Io per questo ai miei atleti chiedo sempre ai nostri campioni di ricordarsi sempre che loro vincono una medaglia, vengono intervistati, stanno sotto l'occhio ai riflettori, ma ricordatevi che il nostro mondo deve avere una circolarità, la vostra responsabilità nei confronti di chi, differentemente da voi, non ha avuto le medesime opportunità e vive problemi ben più seri. Questa considerazione secondo me va di pari passo con il concetto di cultura, che secondo me si relaziona molto con l'idea che oggi abbiamo degli atleti paralimpici, perché noi oggi abbiamo determinate figure di atleti che sono riconosciuti indipendentemente dalla loro disabilità, cioè hanno creato una loro nicchietta di pubblico che li segue indipendentemente, insomma per lo sport c'è chi si è buttato nella politica, c'è chi utilizza i propri social per magari parlare di ambiente, mettiamola così. Prima, nelle paralimpiadi a cui lei ha partecipato, come venivate considerati voi atleti? E se venivate considerati? Guarda, io penso di aver avuto la fortuna, al di là per effetto dei risultati sportivi, forse per effetto della narrazione della storia, che era più interessante per i media da allora, che non il risultato sportivo, perché era bello narrare del povero pentatleta che ha avuto l'incidente durante una gara. E si è rialzato nella sua vita. Molto, molto da tv del dolore, no? Per cui aver avuto la fortuna, forse uno dei primi, di essere spesso in televisione, spesso invitato a parlare di queste cose, ma ecco l'approccio era sicuramente questo. Però a quell'epoca noi eravamo, considera anche, a proposito, parlavi di cultura, io sono uno di quelli che sostiene da sempre, ma fa parte del mio modo di vedere lo sport, e lo sport è tanta roba, no? Bisogna avere la capacità nella declinazione, anche nel linguaggio che utilizziamo, di riuscire a tenere insieme tutto questo, no? Lo sport è sport di top level, olimpico, paralimpico, c'è uno sport che ha un impatto su un sistema di welfare, penso a tutta quell'azione che viene fatta e che può essere fatta con le persone anziane, no? Le palestre della salute in Regione Emilio, quello che fa oggi sport e salute, rispetto ad altro. Poi c'è uno sport che deve essere saputo declinare come strumento di cultura, perché se tu lo sport lo narri in un certo modo e lo utilizzi strumentalmente in un certo modo, può produrre cultura. Quello che abbiamo tentato fare noi, rispetto agli anni in cui io ero atleta, è esattamente questo, trasformare qualcosa che uscisse dal contenitore dello sport e dalla nicchia sportiva, per utilizzare il nostro sport, ma per contaminare nel modo più ampio possibile la società civile. Oggi i nostri atleti che diventano di per sé sono riconoscibili al di là di quello che fanno, perché sono diventati molto social, influencer, quello che dicevi te. In realtà non sono che la rappresentazione del fatto che siamo riusciti a tradurre qualcosa che era di nicchia e normalità, che è quello che avviene per tutte le persone normali. Cioè tu hai dato, lo sport è stato il caso, è stato lo strumento, ma in realtà il termine di questo è qualcosa di diverso rispetto allo sport. Lo sport è stato il minimo comuno denominatore, poi ci sono stati tanti fattori che hanno anche permesso questa emersione, banalmente anche i social, secondo me hanno aiutato in questo, perché poi una persona, ognuno di noi, si può raccontare in una certa maniera e c'è chi magari ha deciso di raccontarsi come persona, anche internet stesso, insomma ha dato alla nascita dei portali come Ability Channel che hanno permesso appunto di cambiare questa narrazione, al che mi viene da chiederle una cosa. All'epoca, no, quando appunto la considerazione degli atleti era quella che mi ha appena raccontato, c'è mai stata una domanda che le hanno fatto e che le ha dato fastidio perché ha detto ancora che fanno queste domande qui? Ma guarda, questo mi capire ancora oggi, cioè non mi sovviene nel momento la domanda nello suo specifico, però io, insomma, voglio dire, non voglio, non so, non vengo da Marte, mi rendo conto di rappresentare sempre una parte del mondo che è percepito come un mondo a parte, ma in realtà siamo soltanto una parte del mondo sportivo, no? Ma non un mondo a parte. Detto questo, questo avviene anche, ma guardate, ma avviene, ma non per lì, ecco, io sono, per farti capire, quando io ebbi l'incidente, naturalmente dovetti affrontare il primo giorno del mio ritorno a scuola, frequentavo l'ultimo anno del liceo, in quel momento arrivai a scuola la prima volta, non mi vedevano da sei mesi, sette mesi, tanti sono stati i mesi in cui sono stato ricoverato, c'è stata l'estate di mezzo, fortunatamente, e arrivando al mio liceo c'era tutta la mia squadra, sì, la mia squadra, la mia classe schierata, tutti muti, tutti fermi, tutti zitti. Come se avessero visto un alieno. Io ho capito che il primo passo in termini di relazione lo dobbiamo fare noi, perché è umano e normale che dall'altra parte ci sia una grande difficoltà, soprattutto laddove magari può essere un rapporto di amicizia e di conoscenza. dipende da noi, mondo della disabilità, riuscire ad aiutare, tra virgolette, i cosiddetti abili ad essere normali. Noi siamo portatori sani di una cultura della normalità, della comunità, della relazione, cosa che si è persa nel vivere quotidiano di tutti noi. Da questo punto di vista lo sport diventa uno strumento di dialogo, diventa uno strumento per accorciare le distanze, perché parti dalla curiosità sportiva che genera l'atleta e il personaggio, ma quell'atleta, quel personaggio, se è abile, se lo sa fare, può interrompere questo genere di relazione mediata soltanto dallo sport e aprirti un ventaglio di riflessioni sull'essere umano che va ben oltre. Non so se sono troppo complicato. No, secondo me è la stessa, un po' lo stesso principio che abbiamo spiegato prima con gli stipendi per gli atleti. Nel senso, noi dobbiamo, cioè, si parte dal proprio mondo, ma bisogna sempre imparare a guardare le cose con un'altra prospettiva. Se voi pensate che oggi poter dire che Monica Boggioni, che Giulia Ghiretti, Simone Barlam, piuttosto che Martina Caironi, piuttosto che Beggiato, sono chi agente tecnico della Polizia di Stato. Perché poi io, nel mio banalizzare, quando andavo a parlare con i vari capi della Polizia che si sono succeduti, dicevo, scusate, ma c'avete tanti poliziotti che non è che stanno tutti in giro per strada a rincorrere i delinquenti, c'è pure gente che sta a mettere... Il timbro. Voglio essere tipo... Però stanno a mettere il timbro, cioè, è chiaro che possono assolvere una funzione, anche dietro una schivania, penso anche... E oggi sono agenti tecnici della Polizia di Stato, della Polizia Veneziaria, sono nel gruppo Fiammeggiare. Quindi questo deve aiutare ad aprire quegli spazi del nostro cervello per capire quello che va fatto. In fondo lo sport è metafora di quello che vorrei avvenisse quotidianamente. Nello sport che facciamo? Prendiamo dei ragazzi, insegniamo loro a guardare a ciò che è rimasto e non ci hanno perso, a sviluppare al massimo le loro potenzialità, a scegliere lo sport che più amano fare, a diventare degli atleti. Oggi sì, degli atleti con la A maiuscola. se questo avvenisse nella presa in carico di qualsiasi persona disabili nella propria vita avremmo molte persone meno disabili da assistere, molte persone disabili collocate nel mondo del lavoro, molte persone che avrebbero un'assistenza più dignitosa, più civile, molte più famiglie con disabili gravissime sostenute. Perché bisogna comprendere quello che c'è dietro e non fermarsi all'apparenza delle cose. E quando lei era atleta non essendoci tutto questo come si faceva? Beh, lì la caparbietà ma non si tratta soltanto di quando era atleta. Ti posso dire allargando un attimo quando ero studente all'università. Cioè io un po' di tempo fa sono rientrato nella mia facoltà di giurisprudenza alla Sapienza per un convegno, quella facoltà che mi incuteva sempre un'ansia prima degli esami. Ma io dovevo arrivare, trovare parcheggio che già di per sé era un'impresa. Trovarmi la scalinata di giurisprudenza e capire come fare ogni volta in base all'aula dove c'erano gli esami ad arrivare all'aula. Cercare l'usciere che aveva le chiavi dell'ascensore che stava nella facoltà di dietro e non si trovava. Ma sai quante volte ho dovuto girare la macchina e non ho potuto fare un esame? Rientrare in quella facoltà trovare il parcheggio parcheggiare vedere lo scivolo arrivare a un ascensore nuovo bellissimo enorme dove ci entravamo in cinque delle carrozzine dico cacchio qualcosa abbiamo fatto perché nasce tutto nessun elemento della lotta lotta sottolineo lotta del mondo della disabilità può essere interpretato da sé stante. Fa parte tutto di un sistema che sta portando questo paese a tentare sottolineo a tentare di essere un paese migliore. Detto questo non bisogna nemmeno perché poi il rischio che il mondo dello sport venga oggi percepito dal mondo della disabilità come un mondo a parte esclusivo per quelli fighi quelli che vanno in televisione non è così per lo meno fin tanto che io sarò presidente tenterò di declinare le politiche sportive non in questa direzione ma è un pezzo dello stesso mondo che però può essere a servizio di quel mondo. Mi viene molto l'immagine un'immagine di allora atleti che partono dal mondo dello sport che poi piano piano portando l'esperienza sportiva riescono a collocarsi negli altri ambiti della società civile in maniera abbastanza naturale. Oggi sì oggi sì all'epoca mia no Era molto segregativa all'epoca Considera che noi insomma voglio dire chi è alla mia età se lo ricorda noi cominciavamo a fare sport e lo facevamo con gruppi sportivi che rievocavano i nomi delle cliniche di riabilitazione senza nulla togliere Santa Lucia oggi è stato diciamo una delle delle più importanti poi insomma ha saputo trasformarsi sono stati bravissimi il basket e quant'altro ma io appartenevo chi al Villa Fulvia chi all'opera dei mutilatini del Don Orione chi al cioè ragazzi c'era sempre un po' quel collegamento all'ambito medico diciamo con l'ambito sfigato che è diverso cioè era ci voleva un bel coraggio nel vestire una tuta sportiva con opera mutilatini cioè coraggio e anche essere avvezzi a non essere come dire soggetti di vergogna perché oggettivamente ma anche la stessa FISA quello è un manifesto che rievoca le paralimpie dell'84 nella terminologia dell'epoca la nostra federazione era la federazione italiana sport H handicappati cioè quindi anche nell'uso dei termini che non tradisce il momento sociale politico culturale dei tempi eravamo qualcosa di vabbè facciamoli giocaffa sport poi dopo tutto è cambiato oggi la grande soddisfazione è che forse se ne sarà reso conto nessuno ma noi siamo stati agenti sociali di un cambiamento della percezione di disabilità nel nostro paese questa cosa in effetti non si sottolinea mai abbastanza che l'importanza del linguaggio oggi per esempio si dice atleti con disabilità persone con disabilità e andecappati si si oggi permettere di contraddirti è vero atleti con disabilità persone con disabilità oggi però l'atleta perché quello è un altro dei percorsi che abbiamo fatto oggi l'atleta la persona disabilità viene definita atleta paralimpico tant'è che se tu veri sempre più spesso sugli articoli del giornale che magari parlano di ragazzi disabili che vogliono praticare sport e non sono campioni all'atleta paralimpico è stato negato l'accesso alla vicina poi vai a vedere non è un atleta dell'azzurro ma là c'è stata una specifica strategia di comunicazione io per primo ho cominciato a parlare di atleta paralimpico quando le domande dei giornalisti quando ero presidente da poco diceva allora la federazione italiana sport disabilità ma perché dovevo educare i giornalisti a capire che l'aggettivazione corporea l'atleta cieco l'atleta disabile l'atleta in carrozzina l'atleta amputato non era rispettosa della dignità di quell'atleta quando tu mi aggettivizzi l'atleta facendo riferimento non tanto a una sua condizione ma a un elemento distintivo che è un elemento sportivo il paralimpismo oltre l'olimpismo tu stai facendo un passo avanti oggi se la comunicazione parla di atleta paralimpico è perché qualche vent'anni fa come tutti noi che stiamo lavorando scusate il termine vent'anni fa ha cominciato a credere ha cominciato a credere che la rivoluzione culturale potesse essere fatta passettino dopo passettino e siamo arrivati a mettere nella treccana il concetto di paralimpico così come lo riteniamo noi una faticaccia nel senso meno fatica di quello che pensate vedete questa è una cosa che dico sempre ai miei figli quando uno ha la possibilità di fare qualcosa in cui crede ci mette passione nulla è fatica qualcuno ti deve ricordare poi a un certo punto che ti devi fermare se non muori sul campo il che potrebbe essere pure bellissimo pensi ai titoli giornali tipo martire pancalli preso da un infarto nel suo esame sarebbe una storia straordinaria nella narrazione dell'ego però quando tu fai qualcosa con passione con determinazione che rappresenta il tuo lavoro e la tua passione anche il tuo sogno la fatica non la senti per questo è importante qualcuno che ti ricordi ogni tanto di placarti no certo però comunque sentendo raccontare tutto questo comunque sono passati 40 anni dalla Olimpiadi di Stockman de Vil e 39 per la precisazione quindi è stato comunque un percorso lungo tortuoso immagino che comunque ci sono stati anche momenti in cui uno ha provato molta frustrazione nel dire questa società non cambierà mai ma sì te ne potrei narrare a milioni però io tendo a dimenticare i momenti brutti e a rammentare quello che abbiamo costruito guardandomi indietro devo dirvi con un pizzico d'orgoglio sono contento orgoglio non personale perché vedete nessun uomo da solo fa nulla nella vita io ho avuto la fortuna di riuscire ad essere contaminatore di una squadra che mi ha seguito anche quando guardate la stessa decisione di uscire dal CONI non è stata una decisione noi eravamo una federazione del CONI qualcuno dice ma scusate non siete matti ma predicate l'integrazione non è stata una decisione facile io conservo ancora gli atti di quelle assemblee dove dicevo alle società sportive quando comunicavo loro che avevo deciso avevo avevamo deciso di uscire dal CONI io ho detto non vi dico di affidarvi ma affidatevi perché avevo in mente il bello a me piace molto un approccio politico la politica può avere un respiro molto breve non intendo la politica politica di approccio politico in termini di costruzione per la comunità un approccio molto lungo se voi io vi presento le nostre carte ma basta che leggete una parte del mio libro io ho disegnato insieme alla mia squadra quello che sarebbe avvenuto in vent'anni e piano piano lo abbiamo realizzato qualcosa sarebbe potuto arrivare prima qualcosa sarebbe dovuto arrivare dopo però ci siamo arrivati ma questo per dire cose che nella testa chiunque approccia qualsiasi lavoro e qualsiasi impegno se hai passione se ci metti il cuore e io il cuore non potrei non metterci tantomeno la passione perché sono pur sempre un ex atleta una persona disabile e se hai la credibilità che sottende quel percorso i risultati si ottengono noi li abbiamo ottenuti perché siamo stati trasparenti siamo stati credibili ci abbiamo messo passione abbiamo realizzato un sogno non è finita qua se io ti dovessi dire dove questo sogno finirà insomma io lo scenario ce l'ho ben chiaro non voglio essere come dire evocato come uno statista perché statistica statistica non sono sono un uomo da marciapiede però credo nel mio mondo credo nei miei ragazzi credo in quello che lo sport paralimpico può fare per il paese e per la società civile ne sono assolutamente convinto e sai quando lo vedo? quando vado al festival dello sport organizzato da Gazzetta a Trento e vedo i miei atleti i nostri atleti fermati per selfie per autografi io quando tornavo da Seul eccetera magari mi veniva da pagare a qualcuno fa finta di fette l'essere riconosciuti non è un fatto personale è un fatto politico culturale e sociale significa che in quel momento quell'uomo della strada quel cittadino riconosce si Ambra riconosce si Martina riconosce Jordan riconosce chiunque ma gli sta riconoscendo qualcosa di più importante del loro nome sta riconoscendo un movimento perché loro rappresentano un movimento effettivamente una volta a me è capitato di incontrare Bebbe per strada e io mi sono fatto un po' girare per strada ma Bebbe già abbiamo scavallato Bebbe addirittura oramai è percepita no? come un movimento a sé beh no a sé perché fa parte della nostra famiglia però Bebbe è andata oltre è andata oltre però scendendo sotto Bebbe la percezione è quella di riconoscere degli atleti no? perché poi la foto iconica sul Corriere della Sera piuttosto che su altre testate sia in quel di Tokyo che poi dopo i mondiali di Parigi delle tre ragazze che vincono loro in prima pagina ma noi ce la sognavamo cioè io sono uscito da Paralimpiadi con 5, 6, 7 medaglie come tanti dei nostri notatori pensa Stefano Imondi a Simone e quant'altro e tante altre anche le ragazze naturalmente noi mendicavamo le varie i trafiletti i trafiletti quella foto è importante no? per le tre ragazze è importante per il paese perché significa che tu hai messo in prima pagina tre ragazze con le loro amputazioni con le loro protesi significa lanciare dei messaggi molto più importanti di quanto si immagina significa dare con quella collocazione un gesto di speranza per tanti che magari in quel momento pensano perché gli hanno amputato un arto per un incidente moto ma che modo che la vita è finita cioè noi siamo coltivatori di speranza di vita attraverso lo sport quindi lo sport che diventa strumento di politica per cambiare un paese ma anche di speranza e di comunità non voglio essere troppo filosofo ma ci credo secondo me quella foto lì ad esempio c'è anche una genera anche una sorta di invidia perché magari qualcuno guarda quella foto e dice cavolo però io non l'ho vista dal vivo questa cosa non c'ero e quindi uno magari dice la prossima volta mi guardo le Paralimpiadi perché so che può regalarmi un'emozione di quel tipo ma guarda io ricordo uno dei ricordi più belli che nella mia carriera la dirigente conservo è una mail che mi mandò un signore un italiano a ritorno da Rio de Janeiro il quale mi scrisse una mail e dice guardi lei non mi conosce sono appassionato di sport ho assistito a Olimpiadi con mio figlio dopo un po' ci annoiavamo cambiavamo fuso l'aria eccetera poi un giorno mi è capitato di vedere su Rai Sport un evento paralimpico ebbene voglio che lei sappia che io da quel giorno l'ho fatto vedere a mio figlio mio figlio si è appassionato io mi sono appassionato e vi abbiamo seguito tutti i 17 giorni questo per me vale più di qualsiasi medaglia perché quello è un italiano normale è un italiano che non ha nulla a che fare con la disabilità e ha capito abbiamo aiutato a capire abbiamo aiutato forse un giovane il figlio adolescente a comprendere allora in questo sta il valore dello sport in questo sta il valore della politica sportiva e questo sta il valore di quello che siamo riusciti piano piano faticosamente perché poi adesso ne parliamo così sembra eh bello sono passati 40 anni comunque ragazzi io a volte quando sfoglio soltanto i documenti cioè mi rendo conto che da un lato che forse il mio tempo è finito ma dall'altro di tutto quello che siamo riusciti a raccogliere seminando faticosamente oggi per chi verrà dopo di me sarà tutto molto più semplice ma non scontato ecco a proposito del dopo di lei 2024 si avvicina dovrebbe essere l'ultimo anno del del suo mandato se non sbaglio e il futuro ma guardate io ho ben chiaro in mente che insomma se tu costruisci se pensi di essere arrivato al termine di quella costruzione che è iniziata negli anni 2000 è giusto lasciare la mano io avrei la possibilità di ricandidarmi non so quello che deciderò perché poi le elezioni saranno nel 2025 quindi prenderò una decisione subito dopo i giochi olimpici e paralimpici altra cosa bella oramai parlano olimpici e paralimpici è diventato normale si vanno sempre di pari passo ritornando alle mortificazioni io ho vinto a Seul e ad Atlanta quello che era inimmaginabile vincere e i titoli erano l'eroe sfortunato che vince l'olimpiadi del cuore e del coraggio che io risposi risposi al giornalista sfortunato se te che non hai capito un cacchio nel senso che che non hai capito che in acqua c'era un atleta non c'era un eroe sfortunato oggi questo siamo riusciti a smarcarlo che poi sfortunato insomma vince una medaglia a me non mi sembra tanto una sfortuna no perché lì c'era tutta la rievocazione però detto questo io credo che il nostro cammino è iniziato e ha un punto di approdo ma che naturalmente si rinnoverà con il cambiamento dei tempi del paese della società il punto d'approdo vattelo a vedere è a pagina 283 del mio libro dove edito nel 2012 io già disegnavo il punto di approdo di questo percorso il mio dal mio punto di vista il punto d'approdo è quello di arrivare definitivamente alla costruzione di un unico mondo che sia con pari dignità che rappresenta che rappresenta con pari dignità quello olimpico e paralimpico ma questo l'ho scritto nel 2010 2012 però naturalmente per fare arrivare a questo non ci si poteva arrivare con un'annessione come è avvenuto in altri paesi io cito i miei amici americani il comitato olimpico statunitense a un certo punto è diventato comitato olimpico e paralimpico statunitense parlando con i miei amici americani ho chiesto loro quanti fossero rappresentassero il mondo paralimpico all'interno del governing board del United States Olympic e Paralimpic Committee e la risposta è stata su 21 3 non è la mia strada non è quello che cerco io ci vuole essere altri 20 anni l'Italia deve essere consapevole delle proprie capacità della tenuta della propria forza culturale che fa grande sia pur siamo piccolissimi il nostro paese e essere il primo paese al mondo che per legge costruisce il comitato olimpico paralimpico italiano ma con pari dignità è il vero obiettivo e questo non si fa sull'onda dell'emozione sull'onda dell'emozione fare cose quando uno è c'è un antico proverbio che dice mai prendere decisioni quando si è troppo tristi quando si è troppo stanchi e troppo felici perché è la decisione sbagliata le decisioni vanno prese nel momento in cui si sono costruiti i percorsi affinché quelle decisioni possono realizzarsi noi abbiamo costruito abbiamo costruito e seminato un terreno a mio modo di vedere potrebbe accadere se non sarò io a vederlo spero comunque di vederlo pur da persona anziana realizzato però io credo che oggi ci siano i tempi bisogna avere però la capacità di saper interpretare quello che deve avvenire e quello che lo sport italiano deve continuare a rappresentare in questo paese che non è una fabbrica di medaglie la fabbrica di medaglie viene da solo perché siamo bravi e la conseguenza siamo bravi siamo forti abbiamo delle federazioni che bistrattate ma sono fanno un lavoro straordinario una classe di tecnici straordinari ma la conseguenza è la medaglia allora ci avviciamo alla chiusura del podcast a me un po' dispiace perché ci sarebbero tante altre cose da chiedere noi solitamente però il podcast lo chiudiamo con una rubrica che si intitola mai più senza paralimpiadi dove il termine paralimpiadi in realtà è una metafora cioè indichiamo quel qualcosa di cui una persona non può fare a meno nel proprio quotidiano non è il parrucchiere per me però io per esempio utilizzo diciamo il mio mai più senza paralimpiadi è la cioccolata e la pasta al tonno cioè io quando ho determinate vivo determinate situazioni magari sono triste e mi butto direttamente su quella roba ma vedi questa è la dimostrazione del mondo della disabilità è molto varia e variegata alzo le mani ognuno ha la sua invece per lei il mai più senza paralimpiadi ma io paradossalmente il mio mai più senza paralimpiadi lo identifico nell'immagine del bimbo di otto anni che ha partecipato a un nostro campus di avviamento allo sport paralimpico perché sognava di diventare come Bebbe come Simone no purtroppo questo bimbo non c'è più per cause che la vita e il signore evidentemente lo ha chiamato però era sorridente e il mai senza i paralimpiadi l'ho ravviso nella frase che ci ha detto la madre quando ci ha comunicato questa cosa molto triste dichiarandosi disponibile a continuare a lavorare con noi come volontaria perché e in questo c'è il mai più senza paralimpiadi perché quella settimana è stata la settimana più bella nella corta vita di otto anni di quel bimbo il paralimpismo è questo per questo parlavo di circolarità di umanità le medaglie sono importanti io per primo vengo dall'agonismo ma molto più importante è tutto ciò che voi non vedete e che tanti non vedono non voi che tanti non vedono e che però coltiva quella speranza alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Luca Pancalli grazie meno male che non mi avete chiesto le previsioni perché non vale ma vale c'è ancora tempo non si preoccupi la mia scaramanzia è più forte della vostra per vi caccia nel chiedere grazie mille ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti